L'offerta educativa del Comune di Pesaro si annuncia sempre più ampia anche nel prossimo periodo estivo. Da lunedì scorso sono infatti cominciate le prenotazioni per i centri estive che accolgono bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni per un massimo di quattro settimane comprese fra il 14 giugno e il 30 luglio. Dal prossimo lunedì 24 maggio cominceranno invece anche le prenotazioni per nidi e scuole dell'infanzia che saranno aperte nel mese di luglio. Un progetto educativo sul quale il Comune di Pesaro ha investito 230 mila euro mettendo a disposizione delle famiglie 8 plessi per i nidi e 13 strutture fra comunali e statali per la scuola dell'infanzia. 224 i posti disponibili per i nidi, 804 quelli per le scuole materne. Se pensate che nella fase pre-covid avevamo aperto quattro nidi e cinque scuole dell'infanzia in questa fase apriremo 13 scuole dell'infanzia e otto nidi. Quindi ci sarà veramente una gamma di scelte e non indifferente. Ovviamente la speranza adesso collegandoci di nuovo a quello che è il discorso dei tamponi e quindi della fase covid eccetera avremo anche in queste strutture estive tutte le precauzioni del caso previste dalla legge. Non ci sarà però il limite numerico che era previsto l'anno scorso di 5 e di 7 bambini per ogni bulla. Quest'anno si potrà sicuramente allargare, cosa che già avveniva durante l'anno scolastico per quel che riguarda i nidi e le scuole dell'infanzia. Ecco perché la capacità ricettiva diventerà estremamente più alta. Potremmo ospitare fino a 805 bambini nelle scuole dell'infanzia e più di 400 nei nidi. Per cui veramente le famiglie pesaresi potranno essere contente di questa nuova possibilità che hanno per il periodo estivo. Il periodo a cui mi riferisco è quello dal 5 al 30 luglio.